A Castellamare di Sabbia, nell'Olimpo della gastronomia, con il professor Pierluigi Fiorenza, che ha introdotto alla Città delle Acque l'attore Gerardo Scala. Professore, come mai questa scelta? Stiamo organizzando delle serate gastronomiche a tema. Quella di stasera è dedicata alla cucina borbonica, è dedicata alla cucina borbonica, ha i suoi ottimi piatti, piatti soprattutto di pasta, piatti buonasera, piatti quindi particolarmente elaborati. Per non parlare anche dei dolci, dei cannoli siciliani, ma non solo, e di tanti altri. E stasera abbiamo come ospite il professore Gerardo Scala, che tra i tanti ruoli interpretati al cinema e in tv, ha avuto quello del professor Savoia. Incredibilmente, un Savoia parlerà dei borboni. Professor Savoia, ma cosa direte? Ah, li abbiamo trattati un po' male questi borboni. Forse un po' lo meritavano, forse no. Però mi viene da ridere. Oggi, noi repubblicani incalliti, a proposito del governo, niente ancora, niente ancora, incalliti però, dove festeggiamo? Piazza Plebiscito, che è un'istituzione borbonica, fu creata dai borboni dopo l'uscita dei francesi da Napoli. Esattamente, che poi diventa Plebiscito nel momento in cui i Savoia, vincono il referendum dopo, come vogliamo chiamare, la spedizione dei mille... Ah, quello lì, no l'ultimo, perché l'ultimo non c'è stata nemmeno la parla della Mazione, quello della Repubblica. Non stiamo parlando del 2 giugno, ma siamo tornati indietro, siamo al 1861, siamo a ottobre 1861. Ma se ho più o meno noi... Quindi hanno detto che i Savoia hanno stravinto a Napoli contro i borboni. Non era vero, non era vero. Penso che sia un dato truccato. però bisogna anche dire che poi alla fine i Savoia hanno fatto questa benedetta unità d'Italia storto morto alla fine l'hanno fatta altrimenti ma potevano fare meglio però ma al meglio c'è sempre speranza ma giusto speranza mentre i Borboni invece erano dei bei magnoni esatto un aneddoto carinissimo Ferdinando II che era sto re burbero un gran re attenzione certo era per il potere assoluto ma siamo nel secolo del potere assoluto ma non ho capito se io sono re sono per il potere assoluto bene lui si divertiva a chiamare il figlio il povero Francesco che poi dovette scappare da Napoli che dovette scappare non sono d'accordo lui per evitare la guerra civile a Napoli si chiuse a Gaeta disse io non voglio non continuate a raccontare i bugie come Savoia no 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 lui lo chiamava anche durante le serate d'onore quindi l'ufficialità estrema scherzando lo chiamava Lasagna Lasagna vieni qua per dirvi che esatto che monarchia avevamo era molto paesana in questo sì però certo bisogna dirlo e allora ritorniamo un attimo non era non era non era di quelle illuminate allora ritorniamo un attimo alla serata la serata borbonica con le pietanze borboniche in realtà non è che stiamo facendo un revival della storia e quindi ci schieriamo a favore di uno o vogliamo condannare un altro noi siamo comunque esattamente felici di essere italiani però avremmo voluto che la nostra nazione fosse nata in un modo diverso quindi senza il sangue di noi meridionali federale federale insomma va bene ma sono opinioni va bene insomma no 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 perché si ha paura di dirlo ma la federazione sarebbe bella è così tutti ad eleggere il presidente quindi alla Gioberti o alla Cattaneo tu sei sì sì va bene comunque insomma ognuno beh penso se lo facevamo già allora oggi staremo più tranquilli sono sicuro potrebbe essere potrebbe essere e continueremo ancora con altre serate la prossima sarà dedicata alla cucina di Totò avremo la nipote Elena De Curtis che verrà qui il 20 aprile poi abbiamo la serata russa come state con il russo, il russo Savoia? col russo, russo chi? quello della pasta me lo ricordo no no è russo dall'altra parte con Putin con Putin esatto con Putin stiamo parlando dello zar recentissimo recentissimo zar di tutte le russie esatto quindi al di là della serata russa gli inglesi sono un po' incavolati dicono che le elezioni sono state false c'è un po' di verità ogni mondo è paese però 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 è super seguito bisogna dirlo lì 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 vero è lunghissimo no volevo dire una cosa a proposito della cucina borbonica al posto dei cannoli siciliani avrei preferito la sfogliatella però quell'antica la santa rosa sì però quella quella originale esatto concludiamo questa bellissima chiacchierata con una domanda all'attore Gerardo Scala che lo ricordiamo per essere stato il poeta infaticabile di Bella Vista il controllore pignolo del film di Nanni Loic a Fespress e che consigli può dare ai giovani appunto anche alla luce del suo libro per quanto riguarda l'approccio al teatro che sembra ormai al tramonto il teatro è finito lo dico col cuore col sobrandello di cuore che mi è rimasto perché poi lo spettacolo ha preso altre vie e lo spettacolo siamo arrivati al punto che fra qualche anno ognuno si inventerà il suo teatro a casa seduto al computer lo stanno già facendo però invece allora permette quindi mi introduco meglio entro io voglio ricordare che Gerardo ha scritto un libro bellissimo che si intitola permettete un pensiero poetico quel che resta del mio cuore all'interno ci sono delle poesie eccezionali Gerardo è un uomo di una cultura vastissima straordinaria è uno degli uomini più colti che abbia mai conosciuto purtroppo è vero le poesie comunque richeggiano anche spaziano nel corso dei secoli dalla prosa latina a quella contemporanea di Pascoli ma non solo oppure passando per Petrarca Leopardi è un pozzo di scienze e per concludere una poesia di Gerardo Scala a proposito di cultura Romanensis è il titolo sarebbero i romani questa è un po' abbientata nell'antica Roma ma non tanto attenzione a Roma amavo le lumina fioche delle caupone sarebbero i ristoranti quelle splendenti dei fori dove non c'erano titoli se non quelli di Priapo le puelle inflammate pronte a donarti il cuore seguite equivocando da nepoti dei senatori in exitus sarebbe infine in exitus tutti figli di Tizius felici in omnibus vizis di Tizius Grazie.